Giornata mondiale contro l'AIDS. La città di Bari ha firmato lunedì scorso la convenzione di Parigi del 2014 diventando membro delle Fast Track Cities, una rete globale di oltre 300 città di tutto il mondo che si sono impegnate a porre fine all'AIDS e ad altre malattie come malaria e tubercolosi entro il 2030. ASC Puglia insieme alla Clinica Universitaria Malattie Infettive del Policlinico, Anlaids Puglia, Università di Bari e Medici con l'Africa QAM Bari hanno creato il progetto Open Test Bari 2022 che punta a promuovere l'attività di screening, di prevenzione e a sensibilizzare sui temi legati all'HIV. Vogliamo promuovere le campagne di sensibilizzazione a fine di incentivare un approccio dei giovani più sereno a questa attività di screening. I giovani sono consapevoli, secondo lei, sufficientemente dei rischi? Assolutamente no, ecco perché ci stiamo impegnando in prima linea con il promuovere le campagne di sensibilizzazione attraverso degli eventi, attraverso dei progetti anche extra ospedalieri perché si è un po' lasciato perdere il controllo di queste malattie. L'adesione della città di Bari a questo protocollo internazionale è comunque un segnale molto positivo? Assolutamente sì, è un passo in avanti da parte della città di Bari, un'apertura anche a livello internazionale per sconfiggere insieme le malattie sensualmente trasmissibili e non solo. La campagna di prevenzione non finisce qui perché è possibile effettuare il test dell'HIV ogni giorno in maniera gratuita e anonima presso il reparto di malattie infettive del politico di Bari dalle ore 7 e 30 alle 9.